Pomeriggi in montagna per l'US Avellino, che ha fatto visita alla sorgente di Acquafidia per poi percorrere qualche chilometro in un sentiero vicino. Ad accogliere la squadra c'era ovviamente il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, il campione mondiale di ultramaratona Modestino-Preziosi, che hanno spiegato ai giocatori l'importanza di quel sito naturale, la purezza dell'acqua che sgorga dalla sorgente. Il pluricampione del mondo, dopo essersi intrattenuto con mister Taurino, ha lanciato un messaggio motivazionale ai calciatori presenti, augurando il meglio per la prossima stagione sportiva. Nel fresco della sorgente e tra gli alberi secolari, la squadra bianco-verde ha potuto godere della bellezza della natura irpina, lasciando molti calciatori stupiti da quello che li circonda a pochi passi dal ritiro. Alcuni dei presenti sui propri smartphone hanno preso nota dei posti da poter visitare con le proprie famiglie o compagne, cercando di avvicinarsi sempre di più ad un territorio rimasto inesplorato per molti date le restrizioni dettate dal Covid. Una visita voluta fortemente dall'area tecnica, che ha voluto far respirare alla squadra l'area di montagna, oltre che a cementare il rapporto interno al gruppo. E' ben accolta anche l'iniziativa dall'amministrazione comunale di Mercogliano, con il primo cittadino che vuole unire lo sport al turismo.